Nei prossimi anni la vita media continuerà ad aumentare, ma per stare bene avremo bisogno di piccole sostituzioni, quindi cambio di ossa rotte, denti artificiali, fino ad arrivare a delle valvole cartiache che sono state sostituite perché danneggiate. Questa necessità apre una grande opportunità, quella di sensorizzare questi dispositivi che attualmente sono degli insiemi di plastiche, di polimeri, di metalli, fino a farli diventare generatori di dati, rendendo quindi quello che è il binomio di questo periodo, di questa fase storica, cioè il binomio della materia e del dato. Materia significa capacità di stabilizzare parti del corpo, quindi una pressione, una deformazione. Il dato significa aumentare la conoscenza del nostro corpo. La conoscenza del corpo non soltanto significa capire come stiamo noi, ma come sta anche la nostra protesi, che è il nostro ospite. Se la protesi ha subito dei danneggiamenti, se si è incrinata, se è diventata sede di infiammazioni. Ecco, poter acquisire questo dato dall'esterno permetterà di eseguire una medicina predittiva e quindi mettere in campo delle azioni di mitigazione prima che il problema diventi troppo importante, ma anche una medicina preventiva che permetta magari di dare la giusta terapia alla specifica persona in base alla misura della sua capacità metabolica. Oggi abbiamo ragionato su una delle nostre attività di studio più interessanti che riguarda la sensorizzazione di valvole cartiache, che potranno fornire informazioni sulla nostra temperatura, la misura più precisa del mondo, perché presa esattamente nell'arteria, ma anche informazioni sulla pressione. E abbiamo visto che c'è un notevole interesse da parte di clinici, ma abbiamo anche identificato degli aspetti che richiederanno del lavoro nei prossimi anni, e cioè delimitare per bene i benefici che possano essere riconosciuti dal paziente, dal sistema sanitario nazionale, ma poi anche capire il modo più corretto di utilizzare questa tecnologia, identificando possibili criticità di sicurezza, di privacy, che potranno essere gestite già in fase di progetto, o comunque indicando agli utenti e anche agli installatori le più corrette modalità di utilizzo.